La palla lunga ancora del nostro portiere, a cercare cala Calabria, il rimbalzo davanti ad Augello, Calabria se ne va, Calabria se ne va, Calabria se ne va, la mette in mezzo, il tiro, è il gol di Braimino Diazzino, ha segnato Braimino Diazzino, è l'1-0 subito, la palla per Calabria, il gol di Braimino Diazzino. Eccolo Braim, come l'anno scorso a Firenze, come l'anno scorso a Torino, Braim Diazzino subito, il gol del Diez, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, e anche se non è un tirachir, fa niente Braimino, è bello e importante il tuo gol. C'è anche Teo, parte Sandro, gol! Sandro Tonali, come David Beckham, stessa porta, stessa fascia, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Sandro Tonali sul primo palo, niente da fare per Radunovic, Sandro Tonali! Uno di noi, Tonali, uno di noi, uno di noi, Tonali, uno di noi. Il gol fa sempre bene, Sandrissimo, il gol fa sempre bene. Il gol fa sempre bene, gol! Rafa Diaz, diciamo così. Teo Hernandez intercetta il tracciante del Cagliari, riporta sulla squadra, gran palla di Teo per Braim, eccolo Braim, c'è libero Alexi, c'è libero Alexi, c'è libero Alexi, c'è libero Alexi. Giro, c'è libero, gol! Oliviero! Oliviero! Ma quale meredizione! Ma quale numero 9! È finito tutto! Abbiamo sfatato tutto Oliviero! 3-1 per noi, 3-1 per noi, 3-1 per noi! Di prima, secondo palo, petto in fuori e senza paura, Olivier Giroud! 3-1 per noi, 3-1 per noi, 3-1 per noi! Olivier! Se c'eri tu, Olivier, a maggio! Andavamo a Bergamo con la pipa in bocca, Olivier Rone! Olivier Giroud! Di prima! Senza aspettare! Pom pom Giroud! Goal! La prima doppietta di un numero 9 a San Siro! È sfatato tutto! Siamo venuti quassù! Siamo venuti quassù! Per vedere, segnare, Giro! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Siamo venuti quassù! Siamo venuti quassù! Per vedere, segnare, Giro! E allora può ripartire Leao! Attento che c'è Teo! Attento che c'è Teo! Rafa c'è Teo! Rafa c'è Teo! Rafa se ne va! Rafa se ne va! Rafa se ne va! Rebic! Rebic! Rafa! Tira! Goal! Rafa e Leao! Oggi segna Leao! La mia giornata è iniziata così! Oggi segna Leao! Goal! E Rafa se ne va! E Rafa se ne va! E Rafa se ne va! 1-0 per noi! 1-0 per noi! 1-0 per noi! Gran gol sull'asse Rebic-Leao! Poitonali, bella per Rebic! Vai Anteante! Vai Anteante! Punta Anteante! Punta Anteante! Eccolo Anteante in area di rigore! Anteante! Anteante! Ibra! Goal! Vediamo se è buono! Ce lo dà buono! Ce lo dà buono! Ce lo dà buono! Baccio la telecamera! Dai che ce lo dà buono! 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 Speriamo che sia buono! Zeta punto! Vediamo qui, ci vede bene? Regolare! È regolare! Il gol di Zeta punto! Il gol di Zeta punto! Il gol di Zeta punto! Siamo i bambini a Luna Park, Zatan, ci fai felici alla grande, due assist di Ante Rebic. Tonali mette in mezzo, colpo in testa, e c'è il gol di Ante Rebic, come a maggio, Ante Rebic, uno a uno. Chi di angolo perisce, di angolo ferisce, fronte piena, secondo palo, Ante Rebic. Rebic, uno a uno, Rebic, Ante Rebic, mission and impossible, mission Ante, devastante. Ben Nasser la mette in mezzo, Teo, gol, ha segnato Brahim, ha segnato Brahim, ha segnato Brahim, ha segnato Brahim Diaz. Brahim Diaz Diaz, è l'uno a zero per noi. Con l'assist di Teo Hernandez, è il gol di Brahim Diazino. Sinekers fa tunnel, dagliela di là, eccolo Teo, 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 gol! Teo Hernandez, la saetta di Teo, la saetta di Teo, il tiro dritto per dritto, la rama di Teo. Hype train, Teo Hernandez! Hype train! Hype train, Teo Hernandez! Che bel gol, meraviglioso un assist e un gol! La sarabanda del Teo! E il Teo Express! Eccoli, 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 bellissimi, bellissimi, meravigliosi! Non ti lasceremo mai! Ale, 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 milanale! Forza lotta, vincerai! Non ti lasceremo mai! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti! Leao viene via bene, l'allargo giusto per Calulu. Calulu, il cross, il colpo di testa, il gol del Milan! Ha segnato Daniel Maldini! Ha segnato Daniel Maldini! La saga continua! La grande dinastia, Paolo! La grande dinastia! Ultimo gol di un Maldini in trasferta! Lazio-Milan 1-1, ottobre 2002! Ultimo gol di un Maldini in casa! A San Siro, marzo 2008, Mila l'Atalanta! Mi è sembrato il gol di Como, Paolo! Fate, facciamo, mettiamo vicine le immagini! Como, Mila, in gennaio 87, il primo gol di Paolo Maldini! Di testa! O qualcosa del genere! In Serie A, però, da distanza ravvicinata, forse di piede, forse di testa, non me lo ricordo, Paolo! Sono blasfemo, ma non me lo ricordo! Comunque, il gol da distanza ravvicinata di Daniel Maldini, mi ricorda quello di Paolo Maldini, in Como, Milan, del gennaio 87! Per la rafa, dentro, per Alexi, 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 in mezzo, Alexi, 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 Brahim Niat! Gol! Ha segnato Brahim! Ha segnato Brahim Niat! Brahim Niat! El 10 al Milan! El 10 al Milan! El 10 al Milan! Goal! 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 Sotto la curva, Brahim! Sotto la curva! La 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 la! La 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 la! Sale Makers, grandissimo lavoro di costruzione, Alexi! Grandissimo, Alexi! Grandissimo, Brahim! 2 a 1 per noi! 2 a 1 per noi! 2 a 1 per noi! Che si imposta, ha dato una buona palla in mezzo a Salem Ekers che cerca di velocizzare, che Hernandez palla dentro, attenzione Calabria, Calabria, la parata Calabria, c'è un gol di Calabria, subito l'apertura, il gol di Calabria, 1-0, 1-0, 1-0, splendida azione nostra, difesa dell'Atalanta presa in velocità, presa in infilata, presa in profondità, deviazione di Musso, ribadisce in porta Calabria, subito veloci i nostri ragazzi, subito razzenti, subito verticali, subito profondi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi Tonali va a pressare alto, Freuler, Freuler, Tonali, 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 gol, 2-0 Sandro, Sandro Tonali, Sandro Tonali, il raccompero e il gol, sono davanti a Musso, la mette alle spalle del portiere dell'Atalanta, coraggio, pressione alta, tiro, gol 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, bello Sandro, bello, ciero, petto in fuori, campione rosso-nero, campione milanista, uno di noi, Tonali, uno di noi, tonali, uno di noi Hype Train Tevernandez, Hype Train Tevernandez, attenzione Leao, gol, all'incrocio dei pali, Raffaellino, ha segnato Leao, all'incrocio dei pali, allarga le braccia, Leao allarga le braccia, allarga le braccia, vogliamo insieme a te Allarga le braccia, Leao, allarga le braccia, noi vogliamo, siamo libellule nel cuore, siamo leggeri e noi vogliamo con te, Raffa Leao, e allora Raffa Leao Leao difende palla, Leao, 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 è entrato molto bene, Leao ingaggia il duello, Leao mette in mezzo una gran palla, Giroud, gol, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud Grandido, colpo di testa di Olivier sul primo palo Grunic, Milan che avanza, amareggiata, Aguizzi, Castilleco, bravissimo, Leao, Leao, limite, Castilleco, mano di rigore Calcio di rigore, calcio di rigore, fallo su Castilleco, calcio di rigore per il Milan Gol, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, esulta sotto la tua curva, Frank, e resta qua, santo in cielo, sopra Milano, 2-2, strameritato, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi Ibra, Ibra dentro per Giroud, Grunic, 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 dentro, Castille, aree di rigore, Castille, la mette in mezzo, attenzione, gol Alto gol del Verona, alto gol del Verona, alto gol del Verona, alto gol del Verona, voglio impazzire, adesso, voglio impazzire, adesso, adesso Voglio straripare, voglio esondare, voglio togliermi, sì, sì, sì Ballò è bravo a intercettare, dai Ballò, palla servita a Zlatan, Zlatan dentro per Rafa Leao, Rafa Leao si incune, aree di rigore, Rafa, il tiro deviato, gol Perché c'è il gol di Rafa Leao, perché c'è il gol di Rafa Leao, 1-0 Rafaello, Rafaello, la cornice, il dipinto di Rafaello, 1-0 1-0 per noi, 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 e adesso tiriamo dritti Qui non c'è il caso, intanto Skorupski, Castilleco, Castilleco, Calabria, gol, cala Calabria, il 2-0 del Milan, come Bergamo, è un bomber, Davidino, bomber, bomber, Davidino, 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 bomber, bomber, Davidino 2-0 per noi Bacca, non fa partire il cross, così diventa dura, Baccaiocco la mette in mezzo, la deviazione bolognese Il tiro al volo, gol, l'abbiamo fatto, Ismael Ben-Naserra, che gol bello, ci vuole tecnica, prontezza di riflessi, coraggio di non buttare via l'ennesima palla 5 contro 4, 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 Ibra, 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 gol, ha segnato Zlatan Libriamo nell'aria Zlatan, dall'autogol al gol, la bellezza della vita, la vita che cambia, il sorriso di Paolo E' la vita che cambia, la 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 la, perché il Milan ha segnato e siamo felici E' la partita che balla, la 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 la, 4 a 2 per noi, per noi, per noi, 4 a 2 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 per noi Si dai ragazzi, Tonali, la mette in mezzo, il colpo di testa, il gol di Giroud, ha segnato Olivier, sul secondo palo, sul secondo palo Olivier Giroud, stai bello lì seduto, bello lì seduto, 1 a 0 per noi, 1 a 0 per noi, 1 a 0 per noi Zlatan fino ad oggi, con le punizioni, non è riuscito ad avere un grande feeling Goal! L'ho detto apposta! L'ho detto apposta! Ibra! Ibra! Si! Smentesce me Zlatan! Smentesce me Zlatan! Un grandissimo calcio di punizione, secondo palo, Rui Patricio immobile Il feeling di Zlatan! Zitto! Zitto! Ibra! 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 A terra! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! A terra Zlatan! Andiamo? Eh sì, l'ha preso, l'ha preso al piede d'appoggio Preso il piede d'appoggio, metto Ibanez contro Ibra Goal! C'è il 2 a 0! 2 a 0! È bello il 2 a 0 del Milan a Roma! È bello! Due gol annullati, due gol buoni! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Alza il braccio sinistro Sandro La mette in mezzo Golpo di testa Goal! Goal! Abbiamo pareggiato noi! Abbiamo pareggiato noi! Parato! L'ha parata! L'ha parata! La parata! la parata eeeh ta 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 la parata eeeh ta 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 la parata eeeh ta 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 la parata grande tata grandissimo tata andiamo ragazzi errore viola, ibra, ibra, ibra gol, gol di Zlatan gol di Zlatan, errore viola il loro ci regalano un gol, gol di Zlatan Raffa l'imbucata bella per Teo, 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 Teo Teo gol, ibra 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 Teo prova ad avanzare Teo, Teo la mette in mezzo Ibra, traversa e gol traversa e gol finisce 4 a 3 questa partita e' autogol di Venuti finisce 4 a 3 la parata del Franky Brahim Diaz e Teo Hernandez ecco il cross Robagnoli gol capitano Arlok ha segnato capitano Arlok 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi Teo, ibra ibra 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi punizione diversa da quella di Roma sano scetticismo porta buono su Zlatan aveva presa di pieno collo dritta per dritta Roma qui invece l'ha fatta girare liftata Sirigu non ha accennato nemmeno la parata ibra minutaggio parte atletica confidenza con lo sforzo attenzione Brahim Brahim dentro per Ibra Grunic deviato Messias di testa gol di Junior Messias gol di Junior Messias anche in campionato il rimpallo il colpo di testa di giustezza Junior Messias i nostri ragazzi della curva Ipatinga tutta la vita per te Ipatinga tutto il mio cuore con te Ipatinga è 2 a 0 per noi oh Ipatinga Ipatinga la 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 eccola allora la palla dentro bellissima di Krunic per te Hernandez che va che punta che va che va che va che punta palla dentro Brahimino 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 Junior Messias il tiro gol di giustezza la meraviglia il colpo di biliardo di Junior Messias il 3 a 0 del Milan Ipatinga la tu tutta la mia vita per te Ipatinga il mio cuore sta battendo per te Ipatinga ed è 3 a 0 per noi oh oh Ipatinga è 3 a 0 per noi la 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 Ipatinga ancora Castiglieco Valdini palla in area Ibra gol ha segnato Zlatan siiii non giangero siiii ha segnato Zlatan siiii 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 voglio flagellarmi se l'importante può arrivare al gol mi flagella siiii mi faccio del male siiii 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 prima volta dall'inizio binario di sinistra sale Meckers Teo che siiii gol ha segnato Frank che siiii ha segnato Frank che siiii bella palla data indietro arriva che siiii di destro la mette sul primo palo alla destra di Vicario 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi sale Meckers che sii che sii il tiro gol Frank che siiii ha la doppietta la doppietta di che sii la doppietta di che sii non segniamo la doppietta da Bergamo 23 maggio 20-21 e allora la cosa si fa seria che siiii Flore gol ha segnato Florenzi Florenzi su punizione Flore allarga le braccia Flore 3 a 1 per noi 3 a 1 per noi 3 a 1 all'area di rigore dell'Empoli palla che resta lì gol ha segnato Teo ha segnato Teo vogliono un mani vediamo non l'ha toccata di mano Teo Teo hype train Teo Hernandez hype train Teo Hernandez vediamo la mano è netta loro la mano è netta loro cioè vogliono annullare un gol guarda guarda la mano è netta clamorosa sarebbe stato rigore e invece gol la mano è netta clamorosa di Bandinelli guarda gol siamo venuti quassù siamo venuti quassù per vedere segnare Giroud 1-0 Milan ecco allora Pellegrini che dà palla indietro attenzione Giroud 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 palo Junior gol ha raddoppiato Junior Messias lo volevo nella partita e lui è arrivato Jesus Christ Superstar la 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 Jesus Christ Superstar la 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 ragazzi attenti vi prego Gabbia Gabbia cerca Ibra Ibra duello Cosmo Leao Leao sono davanti al portiere Leao 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 GOOOOOOOL ha segnato Rafa ha segnato Rafa la palla in rete RAAAFA Leao e Leao facci un gol la 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 dai Leao facci un gol la 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 dai Leao facci un gol RAAFA Leao 3 a 1 per i nostri ragazzi 3 a 1 3 a 1 3 a 1 e questa è una parita così con loro che coprono poco campo dietro la linea della palla e tu che devi cercare di insedirti Leao 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 gol di Zlatan gol di Zlatan Milan in vantaggio aveva fatto l'assist Ibra per Leao contro la Roma ricambia il favore Raffaellino loro si stono sempre addosso grande palla di Leao per Teo Leao per Teo 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 GOOOOOOOL ha segnato Teo secondo assist di Leao 2 a 0 per noi 2 a 0 per noi 2 a 0 per noi come è andata ancora in gol Teo splendida la palla di Rafa per Teo 2 a 0 2 a 0 2 a 0 GOOOOOOOL Teo trasforma il rigore del Teo doppietta di Teo Hernandez in maglia rosso-nera qui c'è Raffaello di Prunic lasciatore Valdito Serra Lunec palla lunga palla lunga Leao Leao pallonetto Leao GOOOOOOOL ha segnato Rafa il migliore della partita grandissimo lancio di Krunic gol di Rafa Leao ci siamo rifatti subito ci siamo rifatti subito ci siamo rifatti subito RAAA FA Leao faccio un gol un bel gol la 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 e perché Leao ce l'abbiamo noi la 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 lo volevo il tabù del gol del primo tempo lo volevo volevo sfatare il tabù del gol del primo tempo prezzo di Cimbucca su Sanchez bravo Livier Tonali 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 andiamo all'attacco Tonali 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 Brahim Brahim tira GOOOOOOOL Giroud ha segnato Livier siamo venuti qua su siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud ha segnato l'Oli ha segnato l'Oli siamo venuti qua su siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud Oli ancora Calabria Calabria dentro Olivier Olivier si gira il tiro GOOOOOOOL Olivier Giroud il giro per noi Oli 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 amore fisico Oli 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 Sì Oli Tutto l'amore del mondo però Olivier Giroud Sì 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 E il Derby l'abbia vinto noi noi E il Derby l'abbia vinto noi noi E il Derby l'abbia vinto noi sotto la curva ragazzi sotto la curva sotto la curva ragazzi sotto la curva Palla lunga di Mike Mignon che va a cercare Leao grandissimo l'assist di Mike per Rafa eccolo qui Rafa che se ne va Rafa che se ne va gol di Rafa e Leao prepotente decisivo assist di Mignon gol di Leao tutti ad abbracciare Mike fantastico fa gli assist da numero 10 il nostro portiere è un portiere meraviglioso è un portiere fantastico poi Leao fa il resto Leao prepotente 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi Palla dentro Palla dentro Messias Messias gol Junior Messias ha portato in vantaggio Milan taglia il Campoteo palla per Junior alla destra di Sefe 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi Palla lunga colpo di testa di Cirula arriva Redic arriva Redic il tiro di Redic gol ha segnato Ante ha paroggiato Ante Ante io lo so che a un certo punto scatta il devastante il gol importante il gol illuminante 2 a 2 Calabria per Tonali Tonali nel vivo la mente in mezzo Tonali Leao 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 Gol ha segnato Raffaele Leao ha segnato Raffaele Leao Gol Raffaele Leao si è liberato si è liberato e ha segnato protestano quelli dell'udinese alza il braccio destro Isma ma va Tonali tentativo di che si Calabria la deviazione gol Alcora Oli Alcora Oli Alcora Oli e sempre Oli 1 a 0 per noi il tiro di Calabria la deviazione di Giroud devo averlo già vista da qualche parte questa cosa Calabria Giroud Calabria Giroud Calabria Giroud Braimino lotta di qua su Messias Braimino la mette in mezzo Giroud Giroud Benassar gol ha segnato un sverbo Benassar gol il tunnel della Lisma contro la squadra Rosso Blu il Benassar cromatico come a Bologna che contro il Cagliari Benassar 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 Caluno il cross di Pierre Leao tiro gol ha segnato Leao gol di Leao gol Raffaele Leao il cross di Pierre il gol di Rafa 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi bella piazzata bella voluta bella messa Leao la sconrimanda del Teo Rebic 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 non trova Teo anticipato Rebic ha rimetto in mezzo Messias la parata di Sirigu gol gol di Messias ha segnato Junior Messias ha segnato Messias Ipatinga tutta la vita con te Ipatinga tutta la vita con te ancora Teo Hernandez che in buca per Leao 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 la mette in mezzo Leao Giroud gol Olivier Olivier assisti Leao gol di Giroud 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Ante Ante prende la palla Ante Ante aspetta crossare Ante palla lì in aria Ibra di testa Tonali gol Sandro meritato Sandro gol gol vero meritato i nostri tifosi Sandro Sandro con la punta santa del piede Sandro si si con l'anima con il cuore gol 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 nello stesso angolo di Olivier Rebic 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 assisti Leao gol di Sandro Tonali meraviglioso si toglie la maglia santa la tocca con la punta santa nel piede Sandro Tonali baciato dal milanismo della vita eterna Sandro gol 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 Sandro guardala guardala Sandro guardala Sandro aia mi fa male il quadricipito ragazzi mi fa male il quadricipito male il quadricipito aia più grido più male il quadricipito è un dolore di questo gioco Kroenic Ibra non perdere il suo non perdere il suo non perdere il suo tienila ante ante Tonali è finita è finita mister aia aia è finita mister sì mister sì mister sì 2-1 per noi i tifosi del milan meravigliosi le ha ova a abbracciare Tonali Calabria si abbracciano tutti si abbracciano tutti bellissimi giusta giusta dovete fare i conti con il milan chi chiacchiera deve parlare con noi prima di parlare dovete parlare con noi con noi con il nostro sacro petto con la nostra santa punta del piede di Tonali si parla con noi si parla con noi prima di chiacchierare noi il milan 2-1 a Roma 2-1 a Roma 2-1 a Roma ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti gol è il momento più bello del mondo Irina te amo diceva Gabriel Batistuta questa volta l'abbiamo fatto noi Milan ti amo Milan ti amo Milan Milan sì sì ti guardo ti amo Milan Milan gol anima ragazzi devi stare lì fermo lì non ti muovi non ti muovi non ti muovi calma ragazzi calma che il cuore è uno calma balla dentro Mignon Mignon la presa è finita è finita è il momento più bello dell'anno San Siro è un momento meraviglioso i milanisti sono felici i milanisti vibrano i milanisti sono belli come il sole il milan dentro il nostro stadio sotto il nostro cielo il milan 1 a 0 leao lo sapevo il primo maggio il milan vince sempre 1 a 0 e adesso dritti duri non è successo niente non abbiamo fatto niente dritti e duri dritti e duri dritti e duri ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti prende Tomori la gira di là su leao leao può puntare ancora il suo diretto avversario leao 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 prova ad andare leao 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 la mette in mezzo gol ha segnato Tonari ha segnato Sandro Tonari Sandro San Juan Faminga in gun San Juan San Juan Faminga in gun gol rosso nero del pareggio sale me che sta la palla di là leao c'è campo per Rafa c'è campo per Rafa contro Barak Rafa 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 insiste se ne va Rafa Rafa la mette in mezzo Rafa gol gol ancora tonali ancora tonali ancora tonali leao tonali gol leao tonali leao tonali leao è andato dritto per la sua strada dritto 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 per la sua strada dritto 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 per la sua strada e poi è sbucato dietro di tutti i tonali e gol due e uno all'attacca Aleflore che torna in campo ancora Aleflore 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 gol Goal, gol, il primo pallone, gol, tocca al primo pallone, gol, tocca al primo pallone, gol, tocca al primo pallone, gol, alle flore, alle flore, alle flore, tocca al primo pallone, gol, alle flore, non c'è più, non c'è più, fatal Verona, fatal Verona, fatal Verona, non c'è più, non c'è più non c'è più fatal Verona fatal Verona fatal Verona non c'è più non c'è più ciao 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 Verona ciao 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 Verona Poi palla in mezzo al campo per Messias Messias la dà lunga su Leao Leao, Leao contro con Miners Leao 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 Goal Ha segnato Leao ha segnato Leao urla San Siro vibra San Siro Leao ancora Rafa Leao sentite come urla San Siro San Siro Leao grande lavoro di Krunic splendido Rade Rade tanta roba Rade ecco Teo Hernandez che viene in mezzo al campo c'è libero Messias c'è libero Messias c'è libero Messias Teo Teo va da solo Teo va da solo Teo va da solo Teo va da solo Teo Goal ancora Teo è una meraviglia il gol di Teo Hernandez da un'area all'altra è una meraviglia senti il mio cuore è il cuore del Milan noi battiamo forte Teo Hernandez Teo Hernandez Teo Hernandez i milanisti belli come il sole i milanisti belli come il sole bello lì te faccio la carezza bella stai lì non te muovete lì non ti devi muovere di lì 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 non ti devi muovere di lì Leao che va a recuperare Leao Leao ha fatto pressing e se ne va Rafa se ne va Rafa se ne va Rafa se ne va Rafa Rafa solo avanti al portiere Rafa palla messa in mezzo Giroud gol ha segnato Olivier Oli 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 non te muovere mai nella vita non te muovere mai nella vita Leao Giroud gol 1-0 per noi 1-0 per noi 1-0 per noi Signore Calabria pressa Calabria pressa l'aveva presa lui ma adesso c'è Leao Leao che si inserisce alla grande Raffaellino Raffaellino contro Ferrari Raffaellino se ne va che cosa ha fatto Leao ragazzi che è gol gol ancora Giroud ancora Giroud ancora Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud siamo venuti qua su siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud ecco lo Rade che provare a recuperare palla grande Rade grande Rade per Raffaellino Leao Raffaellino Leao che si gol abbiamo segnato ancora noi Frank che si il presidente del nostro cuore 3-0 straripiamo esontiamo dobbiamo tracciare non ti muovere mai più di qui nella mia vita non ti muovere 3-0 meravigliosi immortali clamorosi 3-0 applausi alla Cimilan di Milano 7 volte campione d'Europa e 4 nel mondo mi collego da Sassuolo ma nessuno ha fatto gol dindon 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 mi collego da Sassuolo ma nessuno ha fatto gol siamo noi siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi siamo la Cimilan di Milano 7 volte campione d'Europa 4 volte campione del mondo e 19 volte campione d'Italia il Milan mi collego ma nessuno è la Cimilan di Milano che è la Cimilan di Milano e la Cimilan di Milano si è la Cimilan di Milano e la Cimilan di Milano è la Cimilan di Milano